Caro energia, plug-in, hybrid, che stress! Zero voglia di vincolarti? Con la formula 1% di Gruppo Carmeli puoi acquistare un'auto anche usata, aziendale o chilometro zero pagando una rata pari all'1% del valore. Poi sei libero di restituirla, hai capito bene, anche sull'usato! L'ampia gamma di vetture a disposizione presso l'outlet multimarca di Gruppo Carmeli è coinvolta nell'iniziativa, una disponibilità sempre garantita grazie alla forza del gruppo ormai consolidato sul territorio, che può contare su uno staff di 10 professionisti specializzati nell'acquisto di veicoli in Italia e sui mercati europei, al miglior prezzo, fornendo quindi al cliente una vasta scelta di veicoli in pronta consegna, anche in tempi di carenza di prodotto dovuto alle note dinamiche internazionali. Inoltre, la nostra storia di qualità e convenienza è certificata da più di 13.000 recensioni positive. Per info, gruppocarmeli.com o contattaci allo 030 77 24 011. Commissario